Ciao a tutti e benvenuti alla Tappa di Malta dell'ISPT Qua ci troviamo a Porto Masso Marina, a St. Julian è una città molto carina, centrale, che attratta tanti turisti ci sono tanti ristoranti, discoteche, tanti divertimenti qua alla Marina abbiamo un beach club, sports acquatici, centro immersioni, scuola di vela c'è tante attività da fare venite con me e vi faccio vedere St. Julian A Porto Masso Marina come vediamo ci sono tanti appartamenti ristoriosi che hanno la veduta sia sul mare sia sul porto con le parche bellissime ci sono anche dei ristoranti tipici Blue Elephant è un bel ristorante che cucina Thai One day when the light is glowing, I'll be in my castle golden But until the gates are open, I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment In questo pomeriggio caldo, ora partiamo andiamo a Porto Masso Casino magari ci rifreschiamo con l'aria condizionata One day when the light is glowing, I'll be in my castle golden But until the gates are open, I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment Thomas Fenek è il fondatore di Thomas Group ha iniziato investendo in mobili Oggi il gruppo ha diverse attività ed è proprietario di Porto Masso Tower Hotel Hiltel e The Casino at Porto Masso dove si svolge il nostro torneo ISPT Allora entriamo, andiamo a godercelo I ain't got nothing to lose I've tried so hard But everything seems to go wrong Eccoci dentro il casino, parliamo del torneo ISPT È un torneo di 500 euro di buy-in stack di 50.000 e bui di 40 minuti Questo torneo si gioca in sei località Qua stiamo a Malta, si gioca anche a Campione a Perla, San Marino, Montplié e Romania Il 3% si qualifica alla finale si svolgerà a Wembley dentro lo stadio sarebbe il 31 maggio e il primo giugno Contemporaneamente c'è il torneo ISPT di 3.000 euro di buy-in e c'è un milione garantito al primo vincitore che sarebbe il 31 maggio fino al 5 giugno Benvenuti a Day 1 Ciao, presentiamoci, come ti chiami? Sono Christine Samut Che ruolo svolgi qui al Casino Porto Maso? Sono la TD di tutti gli eventi internazionali che si svolgono al Porto Maso Casino Mi occupo di fare rispettare le regole durante il torneo Mi occupo dei livelli che si giocano i giocatori, tutti i dealer, eccetera eccetera Allora, un saluto a tutti gli spettatori a casa e gli diciamo di venire a trovarti qui al Casino a Malta Saluto a tutti Vi invito a tutti di venirmi a trovare qua al Porto Maso Casino a St. Julian dove il divertimento c'è sempre è la poker room più rinomata e più bella che c'è a Malta dove il poker si gioca davvero Grazie Vi lascio ad una panoramica dei tavoli in questo Day 1 Ciao! 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 No! No! Grazie a tutti